segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te alessandro i battista che pure a questo discorso ci tiene intanto mentre parliamo vi faccio vedere le immagini di oggi ci sono state le manifestazioni davanti alla rai di napoli di torino e la le forze dell'ordine hanno reagito hanno reagito in maniera dura le vedete questa è quella di napoli nei giorni scorsi c'erano stati altri avvenimenti di studenti a roma allora c'è parte degli osservatori politici quelli vicini naturalmente alla ricerca di un'alternativa a questo governo che dicono attenzione perché è un modo di reagire alle critiche è un atteggiamento nei confronti di quello che distorce il pensiero del governo che si sta sempre di più dilatando e in qualche misura quello che diceva elisabetta piccolotti noi ci abituiamo di battista è così è innanzitutto ricordo che il tentativo di genocidio l'intento genocidario il tentativo di pulizia etnica a gaza sta venendo in questo momento vi do dei dati che sono incontrovertibili in ucraina sono stati assassinati in due anni 540 bambini a gaza in quattro mesi 13 mila 400 bambini hanno subito un'amputazione prima di aver ricevuto prima di aver imparato a camminare prima di aver imparato a camminare 400 bambini hanno subito un'amputazione di un arto a gaza molti senza anestesia in questo momento israele è alla sbarra per genocidio davanti al tribunale internazionale quindi ha senso dire stop al genocidio qual è l'ipocresia giovanni prendersene esclusivamente con il governo meloni ha ragione storace quando dice anche in passato la rai è stata occupata militarmente da tutti i governi io non dimentico l'atteggiamento della rai durante il governo draghi che è stato molto più imbarazzante di quello di oggi qual è il punto che quando gali prima ancora di aver detto stop al genocidio canto una strofa vi sembra tutto normale tracciare un confine colline immaginarie bombardando un ospedale e lì si indigna il presidente della comunità ebraica milanese dicendo ha ferito molti qua gli unici feriti sono i bambini palestinesi in questo momento è lì che intervengono due politici gasparri centrodestra e fassino partito democratico il pd non avrà tutta questa linea ma questo è innegabile e chi si indigna l'ambasciatore israeliano che dice fa un comunicato per me ignobile qual è il punto non è il problema la rai che schiava del governo è il governo che schiavo di israele questo è il problema storaggio oi oi